E allora ci stiamo signori, diamo un caloroso benvenuto a Mimmo Cavulino! A che quando ti sto soando, non ti sto soando, ne vieni la la scuola, è il piano che non si è così... E allora ci stiamo a cercare, di tutto da tutto si è così... E poi non mi piace, è che non mi piace, è un' perciò che non mi piace... E' un' perciò che non mi piace, è un' perciò che non mi piace, Grazie per la visione Grazie a tutti